Allora ragazzi, vi faccio una domanda di cultura generale. Secondo voi, chi è l'ente di beneficenza per eccellenza del fantacalcio? Risposta esatta, siamo noi, la Vietasso Fudor Club. Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sul fantacalcio. Com'è andata il fantacalcio? Com'è andata la prima giornata di fantacalcio del 2021 della Vietasso Fudor Club? E' andata che siamo un ente di beneficenza. Siamo un ente di beneficenza. Siamo un ente di beneficenza perché? Perché abbiamo risuscitato l'acido lattico, la squadra di mio fratello. Abbiamo perso il verbi di famiglia. L'acido lattico, che non vinceva da 5 partite, che non vinceva da 5 partite, cosa è successo? Ci siamo... abbiamo fatto come al solito la nostra figura da ente di beneficenza e gli abbiamo regalato 3 punti. Comunque, fatta questa piccola premessa, iniziamo un po' a vedere i voti delle due squadre. Partiamo dal mio avversario, dal AC dolattico, che ha totalizzato 81 punti. Di questi 81, Pepereina 5, meno 1 per il gol subito, Chiriacopoulos 5, 6 poi agli altri due difensori, Mario Rui e Palomino. A centrocampo, Lucas Leiva 4,5, meno mezzo punto per il cartellino giallo. Pellegrini 6,5, Simone Verdi 4,5, meno mezzo punto per l'ammunizione. Zielinski 13,5, è stato ammonito però comunque ha fatto una doppietta. In attacco poi, Lapadula 6, Insigne 10 e Duvan Zappata 14. L'Aviatasso Football Club invece ha totalizzato 73 punti. Ed è anche un po' strano, visto che da noi non ha segnato nessuno, avevamo giusto qualche assist ed il clean sheet del portiere. E tra l'altro mi rode anche un po' il culo, perché avrei anche potuto pareggiarla se non avessi fatto una scelta del cazzo. Comunque, detto questo, Sirigu 7,5, più uno per il clean sheet. In difesa, Farroni 7,5, più uno per l'assist. Diogo Dalò 5,5, meno mezzo punto per l'ammunizione. Di Marco 6, centrocampo Sottil 5, meno mezzo punto per il cartellino giallo. Kuczka 6, Barak 6,5, Mkhitaryan 6, Ilicic 8, più uno per l'assist. Belotti 9,5, più due per i due assist. E Ciccio Caputo 5. E qua ho fatto la stronzata perché se avessi fatto giocare El Ciucchi Lozano al posto di Belotti, Lozano che ha preso 10, 5 punti in più, avrei fatto 78 punti ed avrei pareggiato la partita. Invece, no, Nisba, non è andata così. Guardando poi un po' i risultati delle altre partite, in vetta la classifica, lo scontro al vertice, SD Sognatori, gli amici di piazza, termina 2-2. Il distacco tra le due squadre quindi rimane invariato. Il Big Tettapig poi tira il collo come una gallina al Team Young Rugge, lo strapazza 4-1 e lo agguanta al terzo posto in classifica. E poi vittoria anche del Belfiga 2-1 contro il Real San Mornico. Real San Mornico sempre più ultimo in classifica, invece il Belfiga con questa vittoria ci aggancia al quinto posto. Prossima giornata avremo una partita complicatissima, la seconda partita più complicata, anzi no, la partita più complicata per noi perché la partita impossibile che abbiamo è quella contro il Big Tettapig. La partita invece è la prossima che abbiamo è contro la capolista, contro l'SD Sognatori. Una partita in cui dovremo dare veramente il 290%, anzi no, il 300% se vogliamo fare risultato. Perché si sa, la Premier Classifica non ha mai troppa voglia di fare due mezzi passi falsi consecutivi. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto della mia ultima giornata del Fantacalcio. Come al solito io ho fatto la mia bella figura da ente di beneficenza. Ditemi se invece voi giocate al Fantacalcio, qual è la vostra squadra e come state andando. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a stammare questo video in ogni singolo punto del planisfero. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie.